Sabato sera i carabinieri della sezione radiomobile di Battipaglia hanno arrestato un 47enne di Ponte Cagnano già noto alle forze dell'ordine, che sotto l'effetto di una massiccia dose di alcol è uscito prima fuoristrada con la sua auto in località Spineta e poi si è denudato una volta fuori dalla vettura in evidente stato di alterazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provato a calmare senza successo l'uomo, che si è scagliato contro i militari procurandoli anche qualche contusione. Una volta riportata alla calma la situazione, i carabinieri hanno riaccompagnato a casa il 47enne in stato di arresti domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale.